hai il piacere di partecipare alla mia pari iniziativa natalizia in cosa consiste a partire da oggi stesso potrai inviare un tuo video di auguri natalizi alla mail bircide chiocciolalice.it che farà parte di un grande cortometraggio che verrà realizzato in prima visione proprio alla vigilia di natale nei miei social facebook youtube instagram e tiktok come realizzare il tuo video fai un bel video con il cellulare tenuto nell'orizzontale e raccontaci qualcosa su di te o semplicemente invia gli auguri a chi desideri oppure esponi un tuo sogno che vorresti si realizzasse o menziona la persona che vorresti rivedere sotto la magia del natale che per svariati motivi non vedi da tempo la durata del tuo video puoi dedicare al tuo video e alle tue parole quanto tempo desideri cerca di attrezzarti a tema vestito da paninaro possibilmente e con uno sfondo gradevole ad esempio mettiti a fianco al tuo albero di natale non mettere nessuna musica ci penserò io i video dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2021 alla mail bircide chiocciolalice.it mi raccomando vi aspetto in tantissimi per questa panno iniziativa natalizia let's go